Devo dire appunto di essere fortunato che proprio nel mio mandato sia capitato questa grossa soddisfazione per tutta la nostra piccola comunità che io rappresento e in questo momento ci ha rappresentato Federica. Ma lei ci credeva? Io sì, io sì, veramente, perché anche quando ero in vacanza dicevo una medaglia d'oro l'avremmo sicuramente dalla nostra campionessa e tutti mi chiedevano ma perché è forte? Non è forte, è fortissima. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a Bardello, si è festeggiata, che cosa pensi, cosa hai pensato in questo momento? Io pensavo a mio nonno Gilberto perché è la persona che mi ha portato in barca, che mi ha aiutato e che mi aspettava di notte per vedere le mie medaglie che era un sacco fiero e anche quando sono entrata in fiamme oro non vedeva l'ora di vedermi in divisa ma purtroppo è venuto a mancare qualche giorno prima del mio ufficiale ingresso Quindi sarebbe stato felicissimo? Sì, sicuramente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti